Si trova presso il carcere a Retino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria il 37enne di origini pakistane che è stato fermato per l'omicidio di Letizia Girolami, la donna di 72 anni che è stata ritrovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana nelle scorse ore. La 72enne nella serata di sabato 5 ottobre non era tornata a casa. Il marito aveva denunciato la scomparsa, era stata poi ritrovata con una ferita alla testa che agli inquirenti era subito apparsa compatibile con un'azione violenta. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona hanno portato al 37enne ex fidanzato della figlia. Al momento i due avevano interrotto la loro relazione ma l'uomo abitava in una depandanza di proprietà della vittima. Potrebbe aver colpito la donna alla testa con un bastone, questa l'arma con cui verosimilmente si sarebbe consumato l'omicidio ma ancora non è stata ritrovata. Il 37enne interrogato subito dopo il rinvenimento del corpo avrebbe prima reso una testimonianza poco convincente, poi avrebbe confessato l'aggressione ma senza dare altri elementi agli inquirenti. Adesso si trova in carcere e domani ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto. Sarà invece l'autopsia disposta dalla procura della Repubblica di Arezzo a chiarire le cause esatte della morte di Letizia. La donna che risiedeva da 30 anni in un casolare di Foiano della Chiana era molto conosciuta nella zona per la sua attività di psicoterapeuta e psicologa spirituale. Definita una donna solare e aperta, era tornata a Foiano per vivere proprio nel casolare del padre. L'omicidio, secondo le ipotesi dell'inchiesta, potrebbe essere l'epilogo di un'accesa discussione tra la 72enne e l'ex fidanzato della figlia. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio volontario.